Buonasera a tutti e benvenuti al riassunto di quanto è successo durante la giornata con analisi ciclica evoluta. Se ben ricordate, nell'analisi di ieri sera avevo segnalato che ci eravamo messi short in rottura di questo minimo a 12.977. Che cosa è successo? Ci siamo svegliati con dei soldi in più. Quindi abbiamo cercato in tutti i modi di superare questo livello attorno ai 12.862, sia in un senso che nell'altro, ma niente da fare. Non ce l'abbiamo fatta per quasi tutta la giornata in cui abbiamo avuto peraltro un trading range davvero misero, misero, misero. Successivamente, quando era ormai quasi palese che qui avremmo avuto un raccordo oltre al 4T-3 per arrivare a 52 barre, e da qui effettivamente potrebbe essere partito un quinto T-3 giornaliero, abbiamo avuto comunque una salita. Anche perché, nella realtà dei fatti, se aggiungiamo questa roba qua, questo raccordo, abbiamo che il nostro T-4 ribassista è qua. 4, 8, 12, 16. Partito da qui, da dove abbiamo appunto il raccordo, è chiuso qua. Per cui, questa è stata probabilmente la chiusura del nostro T-1. Il nostro primo T-1 è partito da qui e è arrivato fino a qua. Basta un T-4 ribassista a chiuderlo. E noi ce l'abbiamo. Successivamente è ripartito, effettivamente, il quinto T-3 in tendenza, concetto volumetrico che non esiste nella ciclica, ma che esiste e che è parte della ciclica voluta. E quindi abbiamo proseguito piano piano a salire con finte pazzesche, perché questa candela che adesso vedete semivuota si è riempita completamente. Successivamente si è sguotato un pezzo. Poi abbiamo fatto un inside, una seconda inside, una terza candela che invece è andata in rottura, ma sembrava nasciuta in stare, infatti ha portato rosso, quindi rottura di swing, ma discesa. A quel punto, rottura di questo altro swing piccolo qua, tutti i swing minori, il minimo a 12.871, quindi il segnale di nuovo ribassista eventualmente per la chiusura del quinto T-3, risalita e poi ridiscesa. Questi sono i giochetti che fanno durante le giornate, anche prima delle scadenze. Domani sono scadenze tecniche, per cui portano nei mercati dove vogliono e poi fanno il contrario di quello che devono fare. Quindi domani sarà una giornata, un altro venerdì, un po' pericolosetto statisticamente per fare trading. Poi chi se la sente e vuole può farlo tranquillamente, chi ha esperienza e dimostra esperienza può sempre fare trading tutte le volte che vuole. Però, mentre noi ci aspettavamo già un po' più di questo ribasso per la chiusura del primo T-1 e siamo invece ripartiti, abbiamo quasi, anzi, abbiamo colmato il gap down che abbiamo avuto questa mattina e che ci ha portato appunto a una valida operazione di short, quella di ieri sera. Adesso bisogna capire che cosa vogliono fare, anche alla luce di che cosa? Alla luce del fatto che su Fuzzimib, siamo passati da DAX al grafico di Fuzzimib, qui la tendenza invece a salire è estremamente più lineare. Anche in questo caso abbiamo che il nostro T-4 inverso è stato qui, ha fatto 4, 8, 12, meno di 4 a ribasso, ma eccolo qua. Ed è l'unico ribasso che abbiamo avuto per la chiusura di un T-1 che ha continuato a spingere. E che oltretutto praticamente ha avuto più forza rispetto al DAX perché abbiamo continuato a rimbalzare sulla media mobile a 50 periodi. Peraltro in Golden Cross segnalato negli scorsi giorni. Per cui se questa deve essere una chiusura di T-3 trimestrale, caspiterina, è una colossale bull trap e domani si deve iniziare a scendere. Se non lo è, come detto, dovremmo pensare all'opzione B, ovvero al fatto che qui può essersi chiuso a 3T-1 il nostro T-3 trimestrale, tre cicli bisettimanali. Guardate qui, 61 bar, quindi ci siamo, siamo andati oltre le 43. Ci stiamo per uno strinizito T-3, fatto da 1, 2 e 3T-1. Capite che poi abbiamo continuato a salire mentre avevo dovuto iniziare già su questo T-1 a scendere e invece continuiamo a non scendere. Anzi, in questo caso, peraltro, il massimo era a 20.399 e qui adesso è a 20.388. C'è stato un ritracciamento per quanto riguarda questo nuovo T-3, pazzesco. Siamo quasi andati a pari, sostanzialmente. E' un ciclo inverso che si avvicina e che si appresta a rischiare di diventare ribassista e quindi di vincolare tutto il prossimo T-2 mensile inverso a ribasso e quindi al rialzo di indice. Come vi dicevo, la forza dimostrata per rimbalzare, non su questo Fuzzini Libre, ma sul DAX e sullo S&P 500 è stata pazzesca. Abbiamo recuperato una discesa disastrosa, che peraltro qua non si vede completamente, così riusciamo a vederla completamente. Stiamo uscendo quasi anche, in termini di Fuzzini Libre, da un bear market. Ne siamo già usciti su DAX, ne siamo già usciti su Standard Impulse 500. E' incredibile. E' incredibile se non lo inquadriamo a livello di cicli master di GAN. Viceversa, è finito un T più 8 pluriennale, che va dagli 8 ai 10 anni orientativamente, c'è stato un raccordo di un T più 5, di 3 gradi inferiori, successivamente sta partendo eventualmente un nuovo pluriennale. Capite che se ragioniamo anche a cicli superiori tutto per ora sta tornando, e la forza è molto forte e qui l'opzione B rischia di diventare l'opzione principale, ma noi continuiamo a guadagnare sul daily e rischiamo molto poco sull'overnight e quando lo facciamo, se anche c'è una giornata storta, ci riprendiamo il giorno dopo. Perché? Perché la ciclica voluta, se letta bene, se utilizzata bene, caspita ragazzi, nonostante ci siano segnali contrastanti, un continuo su e giù, 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 sono 54 punti di salita e poi si sgonfia per più di metà, poi c'è una violazione al rialzo, poi di nuovo si riscende per, anche qui, un'altra cinquantina di punti, 54 per la precisione. In una sola candela, quando siamo rimasti in 30 tic di training range per quasi tutta la giornata, per buona parte della giornata, capite, se io non utilizzassi la ciclica voluta, i tempi, i prezzi, nonostante, peraltro, i raccordi, io non saprei come cavolo tredare. È vero, c'è un canale, sì sì, ma è uno estremamente ampio, due ci sono finte, qui raggiungo il canale, dico ok, adesso potrei scendere, no, ritorno su, ma non vado a toccare il livello superiore del canale, poi scendo immediatamente, una sera, la mattina dopo mi ritrovo giù, sulla fascia inferiore, dico ok, adesso riparte, possiamo andare su? No, si ritorna sulla parte bassa del canale. Si può riandare su? Sì, vediamo un pochino, però un po' lento, sta facendo fatica ad aggiornare i massimi qua, magari non rimango in overnight. Mi ritrovo di nuovo quasi sulla parte alta del canale. Decidetevi. Se invece utilizzo l'evoluta, giorno dopo giorno, come vedete, i risultati arrivano, ok? Poche altre cose da raccontarsi, se non che appunto domani ci sono le scadenze tecniche, è vero che non sono le tre streghe, ma comunque possono fare tutto quello che vogliono e tornando al funzionario, vi faccio notare che qui il nonno T-3 è di nuovo diventato parte, questo ciclo qua è diventato parte ancora del settimanale inverso. Tra l'altro manca una I di inverso. Su DAX non l'ha ancora fatto, ma rischiamo che si ritorni di nuovo qua. Siamo in mezzo, ok? Sì, siamo quasi in mezzo a questo massimo e questo minimo. Capite che rimanere in overnight questa sera sarebbe stato, secondo me, un po' rischioso. Chi l'ha fatto, per carità, sapeva perfettamente a cosa andava incontro, ma io invece mi sono portato a casa mia e fine del discorso. Per il resto, vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata. Se l'analisi vi è piaciuta, mettete un bel like.